questi qua sono molto belli i crazy bulldog da un G no aspetta due questi qua se non erro due G bella molto bella la scatolina e c'è il celofan quindi il celofan come glielo togliamo glielo togliamo sempre col con il coso passami il coso che è vicino al coso ah ecco qua senza usare il coso il coso vedi sarà molto lunga e iniesolabile e i polacchi l'hanno incartata bene esattamente dalla colonia che dico sono categoria F2 non mi ricordo non penso sono F4 plastic nel liquido vediamo come sono è prima volta che li apro vediamo insieme a voi ok sto così deve stare fermo ma è una scammata ragazzi sono piccoli della triplex triplex mandaci i pacchi belli però piccolini sembrano dei magnum cinesi me ne aspettavo più grandi ce ne sono 20 20 pezzi si presentano così ve li faccio vedere meglio e si presentano così vedi come sono belli 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 ripigli anche tutti in mano così ripigli in mano non ci stanno belli belli ci stanno 20 pezzi e facciamo il test ecco qua no il test magari non lo facciamo qua perché sennò non vedete più niente anche tutto quanto e vediamo la massa attiva allora dunque massa attiva non c'è scritto niente piccolino qua cosa c'è scritto f3 vodka perché c'è scritto vodka sito triplex punto più uno dove spacci il neck a un g ok un g va bene peccato che quest'anno non ho trovato i due g della doom boom peccato molto peccato e ci teniamo questi qua un g che vanno alla grande pure loro e niente è uguale è uguale a vi faccio vedere anche il retro e questa è una parte questa è una parte a e il retro non lo so ci sono scritte sempre in polacco 20 g perché sono uno ce n'è un g è uguale sono così molto buoni li consiglio